ok allora francesco siamo in questa situazione qua e allora qui ci sono delle distanze cioè quindi ci sono dei parametri in metri e tu sai che non puoi il suono non lo puoi collocare nessuna parte qui in questo rettangolo dovrà essere per forza fuori dal punto di vista virtuale ok ora tu potresti disegnarti una stanza virtuale che è molto più grande capisci grande quanto ti pare in realtà perché è virtuale quindi devi solo sapere che il suono decade cioè l'ampiezza del suono decade con uno su D come dici? sì dove D è la distanza e mentre invece allora segniamoci questi parametri l'ampiezza decade con l'ampiezza decade con uno su D uno su D quindi mentre diciamo la coda delle riflessioni cioè quello che è l'ultima parte del riverbero diciamo ok decade con uno su D diciamo il decadimento questo sono delle regole così molto in piedi che è molto poco reali però funzionano bene ok quindi mettiamo conto che la sorgente del tuo suono sia qua ok tu vuoi che collocare la sorgente qui allora se fossi in una situazione reale come arriverebbe questa sorgente del suono? arriverebbe a questo orecchio no? così e a quell'altro arriverebbe così sono due distanze diverse no? o? quindi ma sono due distanze diverse e si possono calcolare facilmente questa è l'ipotenusa di un triangolo no? questo allora questo c'è una posizione quindi la cosa è che comunque non ho capito bene perché in quel quadrato non posso posizionarli adesso lo capirai comunque queste si calcolano queste distanze e tu sai che l'ampiezza qui decade o il ritardo è legato alla velocità alla distanza fratto no? la velocità del suono questo questo no? di fratto di s ok? no? allora perché non possono stare qua dentro? perché il suono dovrebbe essere in anticipo rispetto all'altoparlante siccome l'altoparlante non conosce il futuro ma sa solo il passato lo puoi ritardare ma tu hai mai notato che si possono fare delay ma non si possono fare gli anticipators? perché non conosce il futuro perché non conosce il futuro sarebbe sempre delay eh no non si può fare ora questa è la parte semplice adesso il problema qual è? è che in realtà il suono non proviene da qua ma proviene da qua dagli altoparlanti n'espa? mh il suono proviene da qua e da qua e anche dall'altro altoparlante ok? proviene da qua sì proviene da qua a questo orecchio e da qua a questo orecchio ok? questo è fisico ok? quindi la verità se vuoi poi facciamo tutti i calcoli questa è una sottrazione di vettori la verità è che tu devi calcolare quello che devi calcolare veramente è la distanza che c'è tra questo punto e gli altoparlanti cioè devi calcolare questo fattore qua perché il resto ce lo mettono gli altoparlanti tu devi calcolare questa roba qua qua e qua ok? queste due distanze qua devi calcolare quindi è una perché queste sono quelle che ti servono per collocare il suono in questo punto qua come noterai siccome il suono sta sulla destra questo altoparlante ha una distanza minore per cui avrà una cioè sarà in anticipo rispetto all'altoparlante di sinistra ok? bene allora questo è il è il primo step ok? calcolare il diretto ok? ma in realtà il posizionamento del suono veramente fatto bene vuole almeno il calcolo delle prime riflessioni fatto bene ok? quindi devi calcolare anche tutte le prime riflessioni che sono sei perché no eh? no dice diciamo leviamo il pavimento e il soffitto e lasciamo quattro ok? pavimento e il soffitto non calcoliamo l'elevazione eccetera eccetera ecco questa è una questa è l'altra ah no scusami no no non è così perché naturalmente il queste riflessioni vanno calcolate rispetto agli altoparlanti cioè sono due set di quattro perché un set per un altoparlante e un set per l'altro ok? di otto sono otto riflessioni cioè otto calcoli no le riflessioni sono quattro di fatto perché non consideriamo il sono questa no e questa e poi poi c'è questa qua e questa qua poi c'è questa qua questa che va qui e che va qui ok? e poi c'è quella posteriore poi ho fatto un discorso sulle riflessioni posteriori così e così ok? ah è legge non è legge ah no si scusa è sempre agli altoparlanti ok? perché poi la parte fisica ce lo mette ce lo mette lui ok? ce ne mettono gli altoparlanti adesso il modo per calcolare queste queste riflessioni naturalmente nella riflessione c'è anche una componente di assorbimento dei materiali cioè tu puoi decidere che il materiale della stanza virtuale assorbe di più di meno ed è una una costante di assorbimento che è un valore a moltiplicare no? e sarà sempre minore di 1 perché 1 è lo specchio perfetto adesso è male adesso voglio farti capire come si calcolano le queste riflessioni adesso facciamo la stanza la facciamo molto più piccola perché il punto è che questa è la nostra stanza no? rifacciamo tutta la questione qua c'è qui c'è il nostro utente il nostro ascoltatore qui ci sono gli altoparlanti no? e qua c'è il tipo dopo di che però per calcolare le riflessioni siccome tu c'è il tuo suono è qui no? per calcolare le riflessioni tu costruisci tutta una serie di stanze virtuali che sono qui cioè che sono degli specchi no? dei mirroring delle stanze aspettando le riflessioni del primo ordine si trovano in questi in queste stanze virtuali che stanno tutto intorno ok? quindi quando tu c'è il suono il suono è collocato nella stanza virtuale questa è la prima riflessione capisci? il suono si trova qui qui si trova qui capisci? perché è e qui si troverà qui ok? e qui e beh perché è lo specchio capisci? quando è vicino alla parete allora è vicino alla parete quando è distante da questa parete allora è distante dalla parete ok? quindi così in questo modo è molto più facile calcolare le riflessioni cioè fare la geometria che serve adesso facciamo un colore un po' meno robusto no? e questa riflessione qua è in realtà quella che ti ho fatto vedere prima il rimbalzo no? questo è fatto senza rimbalzo che è più semplice adesso lo faccio su un solo altoparlante vabbè magari se uso le linee rette va meglio ok? lo faccio su un solo altoparlante ma bisogna farlo per tutte e due ok allora questa è la situazione per collocare un suono nello spazio dopo di che ci sarebbero naturalmente le seconde riflessioni cioè i secondi rimbalzi che ce ne sono sedici ok? poi ci sono i perché ciascuna riflessione c'ha altri c'ha altre quattro riflessioni sue no? quella del terzo ordine ce ne ha sedici per quattro e così via no? è per questo che basta replicare le prime riflessioni e le seconde si fanno con una coda di riverbero perché? che cos'è la coda di riverbero? il punto è che tu c'hai se adesso facciamo un attimo che cosa succede nel tempo no? diciamo che tu c'hai un suono quindi il riverbero sarebbe di una concatenazione di riflessioni eh già bravo lo sapevi? no no sono sempre io che cos'è esattamente eh perché succede succede questo allora diciamo che tu c'hai queste che sono che è il tuo suono il tic e il buonasera poi c'hai le prime riflessioni che sono così fai conto sono staccate no? sono separate e quattro questa è quella che viene da dietro poi tutte le altre si ammucchiano e questo è il riverbero ok? quindi sostanzialmente c'è un e naturalmente si ammucchiano si attenuano perché sono sempre più lontane queste queste per queste vale sempre la regola uno su di e uno su cioè questa parte qui va tutta con uno su di questa va con le prime quattro eh? le prime quattro si le prime queste qua anche anche il diretto va con uno su di quindi se il diretto è più lontano tu c'hai che ti cala e queste invece vanno con uno su radice di D questa è l'ampiezza perché vedi che cala in maniera esponenziale ok? quindi questa è la situazione ora il punto è per esempio che il suono si potrebbe anche muovere no? allora che succede se il suono si muove? succede che il suono si muove all'interno della stanza virtuale e cambia tutte le distanze certo devi ricalcolare tutto ok? delle regressioni in linea generale diciamo se tu vuoi dei movimenti nello spazio devi calcolare tutte le le fessore adesso ricalcolarle sempre ma questo non è un problema cioè voglio dire le macchine lo fanno un microvelo di frattere fa la macchina adesso il punto è allora rifacciamo un attimo la stanza negli ultimi dieci minuti cerchiamo di capire come si fa dentro perché farlo dentro c-sound è piuttosto complicato d'altra parte farlo in qualsiasi punto è complicato con qualsiasi cosa perché è una roba che c'è un sacco di parametri c'è veramente una montagna però la questione è che si automatizzano facilmente una volta costruiti una volta costruiti vedi se tu questo questo suono va da qui a qui no è chiaro oppure lo puoi far andare da qui anche verso di qua lo puoi far andare dietro ci sono delle ulteriori cose perché dietro tu lo sai perché le orecchie sono fatte come sono fatte perché hanno la pinna asimmetrica è proprio per cogliere la differenza tra davanti e dietro e tra sopra e sotto ok perché tu la cogli la differenza se un suono ti sta dietro lo senti che sta dietro perché perché la pinna filtra no quindi quando qua passa ci vuole un filtro basso a basso intorno ai 2000 hertz molto un filtro molto no qui ci vuole un filtro cioè nel momento in cui passa dietro tu devi amplificare la pinna cioè siccome siccome il suono continua a venirti da davanti no perché ti arriva dagli altoparlanti per fare per fare il movimento verso dietro devi devi simulare sì metterci un filtro e vabbè ma questo lo facciamo dopo il punto è che in un passaggio per esempio aspetta un attimo scusa che c'è sì sì ok ok c'è un pacchetto sì eccomi allora passando dietro vedi che qua la distanza angolare cambia no questa questa mentre passa dietro cambia no il suono ti si appiccina in realtà a te ok allora quello che quello che succede succede è c'è l'effetto doppler no perché cambia la distanza angolare ma l'effetto doppler viene automaticamente perché tu devi diminuire il ritardo qui siccome si avvicina diminuisce il ritardo capito quindi tutta questa cosa in realtà basta basta fare questi calcoli ok adesso il problema è come si fa all'interno di un di di c sound una cosa del genere allora in c sound tu fai perché voglio dire il problema è questo adesso ragioniamo solo con stanze fisiche cioè che non cambiano dimensioni perché tra l'altro si può fare cambiare dimensioni nella stanza se vuoi no nessuno ti dita di cambiare dimensioni della stanza durante il pezzo però diciamo la forma cominciamo sì la forma eccetera eccetera allora tu c'hai uno strumento facciamolo fisso per il momento c'hai uno strumento che è lo strumento room ok che simula la stanza quindi fa nello strumento room allora tu conosci aspetta dove sto ma no è che sto sto cercando di disegnare sul tu conosci il allora tu c'hai lo strumento room e ne devi avere tanti quanti sono le sorgenti sonore no perché è la stessa stanza ma sono tutte sovrapposte una all'altra ciascuno ciascuno strumento room calcola la stanza di uno dei suoni di una sorgente sonora capito quindi ne deve avere ne deve avere separati no però sono lo stesso strumento in realtà sai che quando tu fai in in ci sound se tu scrivi inst mille 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 due no questo crea tre strumenti che sono esattamente identici però li usi separatamente capito li usi nelle score dici a quale strumento andare allora tu avrai che una sorgente sonora va in uno una sorgente sonora va nell'altro e questo calcola tutte le riflessioni collegate alla posizione ok poi c'hai degli strumenti che creano la posizione cioè questa è tutta roba che parla tra di loro se io devo fare uno schema di come di come funziona la cosa è che tu c'hai lo strumento room e dentro ci va il sound in no e ci va anche il ci va anche uno strumento che regola la posizione x e y questo è una c'è una sua partitura poi c'è una tavola che lo strumento room legge che sono i parametri della stanza questi li mettiamo dentro una tavola di solito hai capito quindi tutti questi si parlano tra loro il sistema attraverso il quale si parlano tra loro è un sistema di patching di c-sound che si chiama zack non so se l'ha mai no è un sistema che c'ha dei buffer per le variabili a dei buffer per le variabili k ok si inizializzano all'inizio e tu se per esempio il sound in mette il suono lo mette in una c'è c'è un opcode che è zav e lui la room c'è un opcode che è zar cioè z write e z read e qua siccome le variabili le variabili di posizione saranno k tipicamente queste vengono passate con z k w e z k read non ho capito perché scrivo così piccolo ok quindi ok adesso stiamo per finire la lezione dico questa roba qua te la devi studiare studiatela da te guarda come funziona fai delle prove fai fai una piccolo un piccolo test con orchestra e partitura che si passano le variabili l'un l'altro ok e dopo ci cominceremo a lavorare perché questo è un lavoro piuttosto non semplice ok ma il sound in che prendi no scusami il sound in abbia pazienza no questo può essere il tuo generatore di suono ah ok no perché questo sound in mi trovo prima esportare per fare tacce poi qualsiasi cosa che genera suono invece di mandare in uscita questo è il suono è il tuo suono ok quindi questo aspetta che muovo ok ok va bene stacco la registrazione si devi vederti perché si fa tutto attraverso di quello ok